Oggi la libreria Cazzaniga ha avuto un ospite d'eccezione. Il noto calciatore Lilian Thuram ha presentato ad una nutrita schiera di partecipanti il suo nuovo libro Per l'uguaglianza, in parte autobiografico e in parte raccolta di testimonianze sul tema del razzismo e dell'integrazione. L'atleta ha poi risposto alle domande del pubblico, sfoggiando un fluente italiano derivato dai tempi al Parma e alla Juventus e si è fermato a lungo a firmare autografi e a farsi fotografare. Vediamo l'intervista. Siamo qui con Lilian Thuram che ha presentato il suo libro Per l'uguaglianza. Se ce ne vuole parlare, di quali sono i temi, come l'ha venuto in mente l'idea di scriverlo? Però intanto all'inizio del libro racconto la mia vita, la mia infanzia, l'importanza del calcio. Credo che questo sia molto importante, che si vede che il calcio è stato molto importante per me e racconto un po' la storia del perché oggi sto facendo questa fondazione, perché vado in Italia, in Francia, anche all'estero a parlare dell'uguaglianza e come dobbiamo educare i nostri figli a costruire una società domani più giusta. Allora ho invitato delle persone che sono molto cari per me a raccontare un po' la visione dell'uguaglianza. Un'ultima cosa veloce, adesso che ha conosciuto Arco, ci tornerà in vacanza, che è un bel posto sul lago. Però sicuramente un bel posto, devo dire la verità che è la prima volta che vengo qua e quando sono arrivato, perché sono arrivato ieri, e da ieri devo dire la verità che mi colpisce tutti questi laghi e devo dire la verità che qualche volta sembra che i laghi sono come l'acqua della Guadalupa, blu, azzurro, questo blu incredibile e devo dire la verità che devo tornare la prossima volta e provo a tornare con i miei figli.